Vincenzo, bisogna tenere alta l'attenzione per quanto riguarda i dializzati, soprattutto in questo periodo? Sì, perché come diciamo da mesi c'è carenza di medici, quindi siamo in alta emergenza. Aspettiamo che qualcuno ci dia qualche risposta. Cosa vi aspettate della presenza della dottoressa Loizzo? Ci aspettiamo che ci fissi un incontro con il presidente Occhiuto e cercare di trovare una soluzione molto ma molto veloce perché se no qua non sappiamo più cosa fare insomma. Se non sbaglio siete 140 i pazienti che hanno bisogno di attenzione? Sì, siamo 140, non tutti in ospedale perché 20 e qualcosa fanno peritoniale a casa, però sono anche dei dializzati che hanno continuamente bisogno dei medici, come abbiamo bisogno noi. Perché per noi quando stiamo lì le 4 ore a fare dialisi, nelle 4 ore può succedere di tutto e se i medici non hanno la lucidità, come ho già detto l'altra volta, di un medico che fa le ore normali, perché qua stanno facendo doppi e tripli turni, non possiamo vivere bene. Siete preoccupati? Siamo molto ma molto preoccupati perché la nostra vita è a rischio in continuazione, a parte che noi come ho già detto precedentemente viviamo a metà, viviamo un giorno sì e un giorno no. Con questo modo di fare siamo proprio messi a cappò. Grazie a tutti.